Una RTO, riunione tecnico obbligatoria davvero particolare, quella indetta alla sezione arbitri di Catanzaro, la presenza del prefetto di Vibbo Valenze, Giuseppe Gualtieri, fra i più noti associati d'Italia. Figlio dell'indimenticato notaio Antonio, a cui peraltro la sede dei fischetti è il capoluogo intitolata, che ricoprì le funzioni di guardalinee, come si diceva allora, nei massimi campionati nazionali, insieme al compianto Umberto Arcadia. Il già questore Gualtieri si è imposto all'attenzione internazionale per aver svolto un ruolo direttivo nella cattura della Primola Rossa di Cosa Nostra a Bernardo Provenzano. Un super boss, rimasto latitante per decenni, assicurata alla giustizia nell'ambito di una delicata operazione di polizia. Il dottor Gualtieri, quindi, compatibilmente con i gravosi oneri connessi ai suoi alti incarichi professionali, è anche stato titolare di importanti funzioni all'interno dell'AIA, riuscendo perfino, quando ha uno scampolo di tempo a disposizione, a impartire preziosi suggerimenti alle giovani leve del mondo dell'arbitraggio. È veramente un piacere, un onore, un privilegio e sono veramente anche un pizzico emozionato, perché Giuseppe Gualtieri rappresenta la storia della sezione, nel senso che il papà è stato presidentissimo della sezione di Catanzaro per oltre 25 anni. L'anno scorso, in occasione della ristrutturazione e dell'inaugurazione della nuova sezione, è stata appunto intitolata al defunto papà Antonio, personaggio storico della sezione di Catanzaro, per noi tutti associato, uno taro. L'AIA è una grande scuola di vita, oltre ad essere ovviamente una palestra per giovani talenti del fischietto, quindi è normale che ci siano persone in grado di dare un altro esempio morale come il dottor Gualtieri. L'AIA è sicuramente una palestra di vita, ha creato sicuramente da subito, e questa è la nostra mission, noi mettiamo, praticamente tiriamo dalla strada i ragazzi in fase adolescenziale, che tutti i ragazzi di oggi hanno problematiche comuni, incomunicabilità con i genitori, delusione amorosa, problemi di studio di lavoro. Noi all'età di 15 anni appunto, li portiamo all'interno delle sezioni come aspiranti arbitri, gli facciamo sostenere gli esami e creiamo gli arbitri del futuro. Ma prima di tutto noi vogliamo creare gli uomini e poi successivamente gli diamo nozione tecnica, e quindi abbiamo fatto l'ottimo del nostro mandato. Questa è la storia appunto di uno personaggio storico come Giuseppe Gualtieri, che è nato e forgiato nella sezione di Catanzaro, da giovane sbarbattello arbitro a 15 anni, poi ha fatto un percorso che è diventato quello che è diventato, insomma a diventare alla fine della carriera prefetto della Repubblica. La sezione di Catanzaro vanta numeri e anche arbitri elementi di primo piano, una tradizione che continua? Sicuramente sì, anche l'arbitraggio è fatto di cicli. Questa è una sezione storica in cui nel corso degli anni ha portato sul massimo palcoscenico nazionale tre arbitri in Serie A e una sequela anche di assistenti che hanno varcato i maggiori palcoscenici nazionali, anche con gare internazionali. È stato anche elemento cardine per quanto riguarda la disciplina del futsal, con un arbitro internazionale e tre arbitri che hanno fatto la storia praticamente della disciplina del calcio 5. Anche nel panorama attuale ci sono una serie adesso di ragazzi che stanno arrivando nelle massime categorie del futsal. Poi abbiamo nelle categorie minori un arbitro alla Campro, abbiamo un assistente adesso che è stato trasferito da Vibbo, Mimmo Rocca, alla Canà, Giovanni Nicoletti alla Campro, Gianluca Catanzaro alla Candì, due arbitri alla CAI, commissione arbitri interregionale, ovvero Giuseppe Costa e Felipe Via Piana e poi abbiamo tre arbitri nel futsal, un arbitro che ha raggiunto la Serie A che è Luca Petrillo, uno che fa la 2 che è Vincenzo Cannistrà, un arbitro che fa la Serie B che è Manuel Candeliere, più un osservatore alla Can 5 che è Domenico Apa. Poi abbiamo una serie di dirigenti che danno lustro e vanto a questa sezione che vengono rappresentate anche nei massimi vertici nazionali. Abbiamo Pippo Capellupo che è responsabile dell'osservatorio antiviolenza nazionale, fondamentale per cercare di dare sicuramente freno ad un fenomeno che come si è visto anche negli ultimi periodi è una piaga del gioco del calcio. In più abbiamo sicuramente anche un altro elemento che è Lino Pignataro che è componente del SIN e del Servizio Ispettivo Nazionale e poi abbiamo Alessandro Guerriero che è componente del settore tecnico nazionale come lo è Pasquale Fedele per il modulo biomedico e Gianluca De Falco che è praticamente componente per il modulo talent and mentor del GUEFA per il calcio a 5. In più abbiamo una serie di dirigenti anche su scala regionale con componenti del CRA, Presidente della Commissione di Disciplina e il Vice Prefetto Vicario Eugenio Pitaro e poi abbiamo anche il Procuratore arbitrale che è Demetrio Battaglia e quindi è componente del CRA come Ercole Vesci, il Segretario Massimo Frangipane e una serie di collaboratori a tutto spiano. Quindi è una sezione storica che non solo ha rinnovato la classe arbitrale ma sicuramente sempre all'avanguardia come classe dirigente. Dottor Gualtieri, lei si è imposto all'attenzione del panorama internazionale per i suoi altissimi incarichi e anche ovviamente per la cattura della primola rossa di Cosa Nostra Bernardo Provenzano. Però oggi è qui nella sezione arbitri di Catanzaro che non a caso porta il nome di suo padre, il compianto notaio Antonio per una riunione tecnico obbligatoria. Sì, sono qui soprattutto come arbitro benemerito e come ragazzo cresciuto in questa sezione che io frequentavo fin da quando ero piccolo e diciamo che i colleghi arbitri sono stati per me uno dei maestri di vita quindi sono qui sotto una veste soprattutto sportiva. Ovviamente fa piacere a tutti che un associato, un arbitro di calcio raggiunga dei buoni risultati nella professione anche perché fare l'arbitro di calcio dà la capacità decisionale dà l'abitudine a decidere subito e in maniera abbastanza chiara, netta e questo nella vita, nelle professioni soprattutto con funzioni dirigenziali è importantissimo perché abitua subito a fare delle valutazioni e a trarne delle conseguenze. Dicevamo lei è figlio d'arte tanto lei quanto suo padre malgrado i gravosi impegni professionali avete avuto altissimi incarichi suo padre addirittura ha calcato i campi dei massimi campionati nazionali in veste di guardalini e come si diceva allora e lei a livello dirigenziale ha avuto funzioni espettive molto delicate e di massimo livello questo vuol dire che si può essere arbitri malgrado si svolga una professione così impegnativa? Ma è chiaro che essere arbitri è una cosa che prescinde dalla restante attività della vita quindi essere arbitri è un modo di essere che naturalmente come tutte le attività della vita di relazione può e deve essere coltivata a prescindere dal lavoro che si fa. Adesso lei ricopre un incarico molto delicato quello di prefetto di Vibo Valencia per quanto riguarda la sua attività professionale e per quello che lei ci può dire si registra a Vibo una recrudescenza di fenomeni di microcriminalità pur in un territorio che invece è caratterizzato da un'alta densità mafiosa come si spiega questa apparente incongruenza? No, non è un'apparente incongruenza perché è chiaro che la microcriminalità ha spesso il segnale di episodi intimidatori il segnale di un'attività sotterranea che vuole costringere l'opettorio economico a rivolgersi all'antistato per fortuna questo per la Calabria è un periodo abbastanza felice perché abbiamo una forza di polizia di grandissimo profilo abbiamo una procura distrettuale molto attenta a tutte le province anche e soprattutto alla piccola ma delicatissima provincia di Vibo quindi è il momento in cui chi vuole rivolgersi allo Stato vero allo Stato dei cittadini non allo Stato dei delinquenti e dei mafiosi in questo momento lo può fare per cui da una parte preoccupa questo fenomeno però dall'altra dico siamo attrezzati per combattere Siamo onorati della tua presenza in tutti i ceresti e so che ci vuoi tanto bene e ci serve sempre con grande e particolare affetto grazie di cuore per tutto quello che ti ha parlato grazie